Gli occhi pieni d'amore di un cane, è questo il regalo di Natale più bello che una famiglia possa fare. Almeno per il Comune di Roma, che con l'iniziativa Jingle Pet apre le porte del canile di Muratella con tre giorni di festa dedicate agli oltre 800 cittadini e cittadine che hanno adottato un cane dai canili comunali nel corso del 2023. È un modo che come amministrazione vogliamo fare per ringraziare chi si prende cura con le adozioni dei cani di tutti. Ma il Jingle Pet non è l'unico evento promosso dal Campidoglio. Per favorire l'incontro degli animali da compagnia non più giovanissimi con i loro futuri proprietari è nato l'amore in una età, adottare un animale adulto ti riempirà di affetto. Un progetto che punta a dare una nuova speranza a quei cani e gatti che, per la loro età adulta, vengono generalmente rifiutati nei processi di adozione e destinati a restare nelle strutture che li ospitano. Un cane adulto, un cane malato, un cane anziano è un gesto veramente unico. Dobbiamo sfatare questo mito e dare la possibilità a farlo uscire tutti. Animali che possono arricchire la vita affettiva e favorire la socialità delle persone anziane. Perché non è mai troppo tardi per iniziare ad amare.